Salve a tutti e benvenuti alla decima lezione del corso QGIS per l'ingegneria idraulica. Oggi nello specifico andiamo a vedere come è possibile determinare la mappa delle pendenze e dell'aspetto, a partire da un DEM. Come prima operazione andiamo a determinare la mappa delle pendenze. Per fare questo andiamo su Raster, Analisi, Pendenza. La carta delle pendenze rappresenta fondamentalmente l'acclività del terreno misurate in percentuale. Come input della funzione dobbiamo innanzitutto inserire il layer in ingresso che è rappresentato dal nostro bacino DEM. Successivamente andiamo a selezionare la voce Pendenze espresse in percentuale invece che in gradi e successivamente anche calcola i margini. Infine andiamo a salvare il nostro file Pendenze. Lo chiamiamo Pendenza. Salva e andiamo su Esegui. Chiudiamo e possiamo osservare il risultato finale. Se andiamo a cliccare su Informazioni elementi, se andiamo nelle zone in nero, quindi nelle zone più scure, possiamo vedere che il valore di pendenza è molto ridotto, di pochi gradi. Man mano che ci avviciniamo a valori che tendono al grigio chiaro, fino ad arrivare ai valori che tendono al grigio chiaro, possiamo vedere come il valore della pendenza invece aumenti. Per rendere questo risultato più marcato, ad esempio possiamo andare a modificare la scala di colore. Per fare questo andiamo tasto destro, proprietà, visualizzazione, banda, singola, falso colore. Come scala di colore possiamo scegliere ad esempio una di queste oppure una di queste. Nel mio caso lascio la quella già selezionata, però andando ad invertire la scala di colore in maniera tale da far sì che per colori chiari corrispondano a pendenze più piccole e per colori scuri pendenze più elevate. Successivamente vado su modalità, intervallo uguale e come classi lascio 5. Successivamente per evitare l'effetto pixel che abbiamo visto anche nella lezione precedente vado semplicemente su ricampionamento e su ingrandimento inserisco bilineare. Vado su applica, ok. Possiamo osservare appunto che per valori piccoli della pendenza abbiamo dei colori molto chiari, mentre i valori più elevati di pendenza corrispondono ai valori più scuri, così come precedentemente. A questo punto andiamo a determinare invece la mappa dell'aspetto. Per fare questa operazione dobbiamo andare su raster, analisi e andiamo su esposizione. Allora, fondamentalmente la mappa dell'aspetto genera una mappa da un qualsiasi raster, dem, che può essere utilizzato e supportato da GDAL. Fondamentalmente l'aspetto è definito come la direzione indicata dalla bussola rilevata sul generico pendio. Il pixel quindi saranno fondamentalmente caratterizzati da un valore compreso tra 0 e 360 gradi nord. Quindi quello che possiamo fare è osservare la variazione del valore e dell'esposizione del versante. Come prima operazione andiamo su layer in ingresso e insediamo il bacino dem. Successivamente andiamo su restituisci un angolo trigonometrico invece che l'azimuth e selezioniamo anche calcola i margini. Successivamente andiamo a salvare il file che chiamiamo esposizione. Salva e andiamo su esegui. Chiudiamo e andiamo ad analizzare il file che abbiamo appena determinato. deselezioniamo e ingrandiamo. Possiamo osservare ad esempio se andiamo ad interrogare il raster in queste posizioni come l'orientamento risulta 274 gradi mentre nelle parti più scure abbiamo valori più piccoli. per ottimizzare la lettura dell'esposizione possiamo andare con tasto destro proprietà e ancora una volta tipo di visualizzazione banda singola falso colore questa volta ad esempio utilizziamo la scala di colore blues andiamo su modalità e introduciamo l'intervallo uguale numero di classi in questo caso facciamo 10 e andiamo fondamentalmente come nel caso precedente a ricampionare inserendo bilineare a questo punto andiamo su applica ok come possiamo vedere valori tendenti al bianco tendono a caratterizzare un'esposizione che è caratterizzata da valori più contenuti dell'angolo mentre man mano che questi colori tendono a diventare più scuri verso il blu scuro possiamo osservare come crescano i valori di esposizione del versante esistono pure delle zone in cui possiamo osservare una carenza di questi dati in cui possiamo vedere ad esempio il grigio ed è campionato come no data questi valori sono no data in quanto fondamentalmente la pendenza in queste zone è uguale a 0 quindi la funzione non ha permesso fondamentalmente di trovare un'esposizione perché non esiste un'esposizione quindi di conseguenza se andiamo a selezionare il raster pendenza dovremmo andando ad interrogarlo selezioniamo il raster andiamo ad interrogarlo e dovremmo trovare il valore 0 infatti in questo caso abbiamo la pendenza uguale a 0 per oggi è tutto se il video vi è piaciuto come al solito vi invito a iscrivervi al canale a mettere un mi piace o a commentare se avete particolari problematiche arrivederci buona serata